Due bravissime ballerine che erano Viola Rosso e Federica Natangelo, ora invece si esibirà da solista, diciamo così, una coreografa, che è Federica Cargano e sarà accompagnata al piano sempre da Alessandro Nidi e da Walter Sivinotti. Accogliamola con un carosissimo applauso. Alessandro Nidi e da Walter Sivinotti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.